Quando è nata? Come mai si chiama così? Devo andare indietro con gli anni, è nata 5-6 anni fa, con altri ragazzi, diciamo che siamo io e un altro ragazzo ai superstiti, gli altri hanno appeso le scarpe al chiodo tutti, gli unici che in perterriti insistono siamo noi. Caratteristiche della squadra? Il punto di forza della squadra è lo straniero, a Hilton, un bravissimo ragazzo sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tecnico, anzi oggi è stato eletto mister perché a rotazione nessuno lo vuole fare perché c'è sempre da lasciare fuori l'uno o l'altro e adesso tocca a lui, a giro, è il suo turno. Obiettivo della squadra? Obiettivo della squadra è play-off ovviamente, quindi il quinto posto almeno.